Come funziona questo aperitivo? Bevi e patatine! Tutta la serata si fa qui? Tutta la sera, sì! Sono Marina di Ravenna, sono venuto qui perché in questa zona ci sono gli aperitivi lunghi sulla spiaggia che durano fino a mezzanotte e sono organizzati dai diversi stabilimenti balneari che lavorano qui Pertini spiagge vuol dire giornate di mare, birretta Ho finito la giornata di mare Oh mio Dio Adesso cosa succede? Andiamo a prepararci e poi usciamo di nuovo Come mai avete scelto questo posto? Perché è pieno di figa Ok? Un po' E detto in altre parole perché è un posto carino dove si può divertire, parlare con la gente E detto in parole povere figa di figa Ma siete pronte per l'aperitivo? Sì eh Come sarà? Bellissimo Ecco perché siete qua a fare l'aperitivo? Perché ci divertiamo tutti i sabbetti, veniamo qua Siamo sempre qua noi Sempre qua C'è gente brava, ci divertiamo C'è l'happy hour, la birra e la piadina con la salsiccia Quindi si sta tutta sera qua? Sì e poi faccio la festa, sono gli happy E io è tanti anni che vengo qua, mi trovo bene, organizzazione ottima, ci vengo volentieri Si beve, si beve molto Si beve, si beve, basta Si balla, si beve Ma si fa così tutta la serata? Sì eh, più o meno Tutta la notte Tutta la notte Come sono questi aperitivi in spiaggia? Cosa si fa? Sono molto violenti Violenti? Violenti, il termine giusto Poi la vedo così, sono un ragazzo molto pacifico, però sono molto violenti L'aperitivo in spiaggia funziona con l'infradito Si è ancora tutti con il costume E niente, si beve, si inizia a bere birra, drink Si fa un aperitivo in spiaggia Funziona che speriamo che qualcuno ci offra della birra Anche per te? Sì, chiaramente Birra, spiaggia fino a tardi Bisogna farsi prendere, andare al bancone il prima possibile Perdo un po' da bere Poi? Adesso è appena finita la giornata di mare, quindi si sta qui? Sì, stai qui finché non va giù il sole E poi ancora, ancora, ancora fino a domani mattina Voi lo fate spesso? Come che funziona? Sì, stiamo qui il sabato Una piadina con la salsiccia Un paio di birra e niente Balliamo un po' e poi andiamo a casa E' un pre-serata E' un pre-serata, esatto E' un pre-serata che si fa in spiaggia Esatto, poi chi vuole continuare può andare in discoteca E' l'unica discoteca che c'è qui a Marina Perché abbiamo solo una, quindi E' un polmino di cosa questo? Di gnocche Tu sei qui a far l'addio al nubilato Al nubilato Con le tue amiche Sì Ma voi siete qua per cosa? Per fare il dio celibato suo Guarda Il dio celibato Sei pronto per l'ateritivo stasera? No, assolutamente no Ecco, i ragazzi che vengono qui a fare l'aperitivo Si spostano lungo questa stradina nella pineta Che collega i vari bagni che fanno l'aperitivo Ti sembra l'aperitivo questo? Sì No, dopo le sette e mezza è ubriacatura, è alcolismo qua Cos'è questo drink? E' un bibitone E' un? Un bibitone Bibitone Te lo bevi da solo? No, con lui Qui la serata è iniziata L'happy hour lungo Qui in riviera Qui a Marina di Ravenna E' un bibitone E' un bibitone